Ciao amici, questa volta continueremo a parlare dell'intossicazione di Zulia per provare il loro cibo in una pentola di rame usata dai detenuti. Ricordate che nel video precedente vi abbiamo spiegato che in molti capitoli successivi a quelli che stiamo vedendo attualmente su canale 5, succederanno molte cose interessanti, tra cui che Zulia sarebbe stato in prigione per motivi che avevamo spiegato anche nei video precedenti. Essendo Zulia in prigione sarebbe stato intossicato dall'alimentazione usando una pentola di rame che ha finito per far ammalare anche tutti i suoi compagni di detenzione. Molti credevano che avessero tentato di avvelenare Zulia, e il principale sospettato era Demir, ma poi fu confermato che tutti gli altri erano malati e che era proprio a causa di questa pentola di rame. Tuttavia Zulia per essere in ospedale sarebbe stata vista da Mugeigan che avrebbe desiderato con molte forze che Zulia morisse. Così la signora Beaccais ha un'idea e si traveste da infermiera per mimetizzarsi nell'ospedale dove si trova Zulia. Quindi entra nella stanza dove si trova per ucciderla. Prende una medicina e una siringa. Beaccais indossa l'uniforme da infermiera che si trovava in una stanza d'ospedale. Vediamo che si copre anche il viso e osserva attentamente ogni angolo prima di entrare nella stanza di Zulia. Beaccais fa esplodere un ordigno in modo che le guardie che sorvegliano la stanza di Zulia si allarmino e si rechino rapidamente sul luogo della detonazione. In modo che Beaccais possa entrare nella stanza di Zulia. Così che nessuno la veda. Passerà del tutto inosservata. Lì vediamo che Zulia sta riposando. Dorme profondamente. Beaccais si trova di fronte a Zulia e le dice che le dispiace rompere la sua promessa. Ma che questa volta la romperà. Ma che questa volta non manterrà ciò che ha promesso. E subito tira fuori dalla tasca la siringa per iniettarla nel braccio di Zulia. Beaccais pensa che Zulia sia una disgraziata. Allora Zulia inizia a risvegliarsi e Zulia chiede all'infermiera cos'è quello. Chiede che medicina è. Inizia a dimenarsi. Zulia morde la mano di Beaccais che cercava di coprirsi la bocca. Mentre lottano. La maschera che aveva Beaccais cade e subito Zulia scopre che non è l'infermiera ma Belice. Subito Zulia continua a dimenarsi e grida aiuto. Così Beaccais deve lasciare la stanza in fretta. Le guardie sentono Zulia urlare e si recano velocemente nella stanza. Zulia racconta che c'era una donna che travestita da infermiera ha cercato di ucciderla. Arrivano i medici e Zulia spiega loro che Beaccais si è travestita da infermiera per ucciderla. I medici non sanno chi si abbeisse. Al che Zulia dice subito che è la zia di Mugeigan. Ricordiamo che Mugeigan è il medico di questo ospedale. Nel frattempo Beaccais scappa giù per le scale imprecando per aver fallito nel suo piano. Le guardie dicono ai medici di non aver visto nessuna donna. Mentre Zulia cerca di spiegare loro che è quasi morta. Un'infermiera pensa che Zulia abbia avuto un incubo. Zulia continua a gridare che è vero che l'ha vista lei stessa ma il medico dice a Zulia che sta prendendo una medicina molto forte. Zulia è sconsolata e cerca di spiegare ancora una volta che Beaccais era qui ma tutti i suoi tentativi sono vani. Il medico chiede a Zulia perché la zia di Mugeigan vorrebbe ucciderla. Al che Zulia risponde che nutre un odio profondo nei confronti di Zulia. Il medico giunge alla conclusione che dovrebbe iniettare a Zulia un sedativo. Zulia chiede alla signora procuratore chi la sta aiutando. Nel frattempo Beaccais cerca di fuggire velocemente dall'ospedale e, dopo essersi tolta l'uniforme da infermiera, va a depositare gli oggetti in un cestino dei rifiuti. Ancora furiosa per aver fallito il suo piano di uccidere Zulia. La procuratrice arriva e porta a Zulia un po' d'acqua. Zulia spiega alla procuratrice che Beaccais ha cercato di ucciderla travestita da infermiera con una siringa. Ma apparentemente nessuno le crede. Si limitano a cercare di calmarla. Uno dei guardiani chiede al suo compagno se possono commentare l'esplosione che hanno sentito. Al che l'altro risponde che non osa dire nulla. Perché questo gli costerebbe il lavoro. Perché questa sarebbe l'unica prova che potrebbero avere in questo momento per confermare che la testimonianza di Zulia è vera. Il procuratore esce e vede queste guardie sospettose. Quindi chiede loro di cosa stiano parlando. Loro rispondono che hanno semplicemente sorvegliato la porta per tutto il tempo e non hanno visto nessuno. Quindi stanno nascondendo l'esplosione. Poi vediamo che Zulia è ancora molto angosciata e dice al procuratore che ha effettivamente visto Beisse. Il procuratore le promette che indagherà ma è chiaro che nessuno le dirà che ha visto Beisse. La procuratrice le promette che indagherà. Ma la procuratrice ha alcuni sospetti perché da quando è arrivata in questo ospedale sono successe così tante cose che potrebbe anche credere alla testimonianza di Zulia. Intanto Zulia è molto triste pensando a quell'evento. Non sa cosa ha fatto per farsi odiare così tanto da Beaccais. Intanto Beaccais va in taxi e arriva a casa e incontra Mugeigan. Gli chiede dov'era. Al che Beaccais risponde che aveva finito le medicine per la pressione perché doveva andare in farmacia. Mugeigan le dice che lei stessa ha quella medicina a casa. Avrebbe potuto chiederla. Ma Beaccais le dice che sapeva che Mugeigan stava dormendo. Quindi non voleva disturbarla. Mugeigan vede che Beige ha un graffio sul viso. E Beaccais risponde che forse l'ha graffiata Kerem, cioè è il figlio di Mugeigan. Nascondendo la verità che in realtà è stata graffiata da Zulia. Beaccais le dice che è molto esausta e che andrà a dormire. Poi vediamo Beaccais furiosa nella sua stanza che getta i vestiti e la borsa sul pavimento. Va a guardarsi allo specchio e cerca di camuffare il piccolo graffio che ha sul viso. Tutto ciò che vuole è uccidere Zulia. Nel frattempo Demir è furioso perché Zulia ha cercato di sparargli e ora è accusato di aver cercato di avvelenarla in prigione. Ma in realtà Zulia si è ammalata in prigione. Più tardi Mugeigan viene a sapere che Zulia avrebbe avuto una presunta allucinazione secondo cui Beaccais avrebbe cercato di ucciderla. Mugeigan crede che questa sia una calugna e i medici le spiegano che hanno cercato di sedare Zulia a causa di queste allucinazioni che ha. Ma questo lascia Mugeigan sopraffatta. Pensa che Zulia per tutto il tempo ha giocato con loro, e ora sta giocando con sua zia Beisse. Era molto turbata a causa di queste calugnie che presumibilmente Zulia avrebbe dato. Sabasatid dice a Mugeigan che Zulia è stata avvelenata e per questo motivo dobbiamo avere considerazione con lei. Ma sappiamo bene che Mugeigan vorrebbe che Zulia morisse. Qualche tempo dopo Zulia si sente molto meglio e può lasciare l'ospedale ringraziando i medici e il procuratore per tutto quello che hanno fatto. Per lei, Ilmaz, arriva rapidamente a vedere Zulia. È molto sconvolto e chiede a Zulia se è vero che Beaccais ha cercato di ucciderla. Zulia rimane in silenzio per un momento e poi nega tutto. Dice che non è vero. Sa perfettamente che nessuno le crederà. Quindi la cosa migliore da fare è dire che era sotto l'effetto delle medicine. Attraverso la porta dell'ospedale si presenta Mugeigan per osservare quello che sta succedendo. Versa qualche lacrima perché sa che Ilmaz vive solo in attesa di Zulia e Ilmaz la ignora. Più tardi Mugeigan va a trovare Zulia in prigione per farle capire di lasciare la sua famiglia in pace e di stare lontana da Ilmaz. Ma Zulia chiede a Mugeigan di dedicarsi alla cura della sua famiglia e di smettere di pensare agli altri. Mugeigan continua a credere che Zulia stia seducendo il marito di un'altra donna. Riferendosi a Ilmaz, Mugeigan pensa che Ilmaz in fondo abbia solo pietà di Zulia. Tutte queste parole lasciano Zulia con il cuore spezzato. Mugeigan fa capire a Zulia che questi giochi con Ilmaz sono finiti. Zulia risponde che se non le dà retta cosa farà? Sua zia tornerà per ucciderla. Questo sorprende molto Mugeigan. Zulia dice che Mugeigan e Beis sono molto patetiche perché pensano che Ilmaz sarà di Mugeigan solo se Zulia sarà morta. Zulia confessa a Mugeigan di essere stata lei a graffiare il viso di Beis. Questa sarebbe la prova schiacciante. Mugeigan ricorda quando ha visto che Beis aveva un graffio sul viso. Zulia pensa che Mugeigan e Beis si siano messe d'accordo per ucciderla. Quindi Zulia non gliela farà passare liscia e ne subirà le conseguenze e non sarà rinchiusa in prigione per sempre. Dichiara Guerra. Bene amici questo è tutto per oggi. Grazie per aver guardato il video.